Le novità di questa quinta edizione di Baipuglia? Bayers di profilo internazionale che allargano le nostre prospettive nel mondo e il turismo internazionale ha per noi un grande appeal perché generalmente si riferisce anche alla possibilità di fruire della nostra Puglia in un periodo diverso da quello balneare apprezza le nostre bellezze culturali ed è un turismo che arricchisce notevolmente l'appeal dei nostri luoghi per cui abbiamo lavorato molto e siamo felici di poter ospitare Bayers che vengono dal Sud Africa, dalla Corea che vengono dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra ma anche dall'Est europeo e dagli Emirati quindi questi sono tutti dati estremamente positivi D'altra parte c'è un'edizione business to business che introduce anche il rapporto tra le imprese per mettere insieme il turismo con le imprese della manifattura, con le imprese dei servizi cioè con imprese che non necessariamente fanno turismo come attività ma che ce l'hanno come turismo indotto Un'altra importante novità è proprio questa dei percorsi con Matera che noi stiamo strutturando e che vedono la Puglia in una felice possibilità di destinazione proprio accanto alla trazione di Matera 2019 Portare per esempio grandi investitori istituzionali a guardare come la Puglia compra e vende il proprio turismo attraverso il Bay Puglia potrebbe anche solleticare nuove fantasie sugli investimenti in infrastruttura Abbiamo visto che i dati aeroportuali lasciano ben sperare molto come ci ha detto il direttore Franchini I dati sono straordinari però come dicevo prima noi ci siamo trovati a vincere il campionato del turismo il campionato nazionale adesso vogliamo giocare un ruolo fondamentale e quindi arrivare alla finale di Champions League Noi sappiamo che cosa la Puglia può offrire ma voi sapete esattamente che cosa i buyer internazionali vogliono acquistare? Di che cosa hanno bisogno? Loro vogliono il turismo esperienziale, non ci chiedono altro che di essere esattamente originali così come siamo quindi trulli, castelli, masserie, enogastronomia, ristorazione La Puglia si configura come il classico posto multitasking possiamo dire nel senso che ha una offerta molto molto variegata che si addice ovviamente all'industria del turismo a Puglia 365 giorni come il bando della regione Lei ha parlato di brandizzazione a tutto spiano Sì, il brand deve essere anch'esso molto esteso sul territorio ma su tutti quegli elementi che fanno parlare di Puglia ma fanno amare la Puglia Secondo me le attività che sono state poste in essere soltanto per questo semestre con il piano strategico Puglia 365 sono l'inizio di un'attività che è destinata naturalmente a migliorare di molto la destagionalizzazione ma soprattutto far maturare nelle istituzioni comunali, nei territori quello che è il principio fondamentale per il miglioramento dell'offerta turistica e del prodotto Puglia in generale Lei parla di destagionalizzazione questo è anche un fatto culturale che riguarda la nostra offerta il lavoro che stanno facendo le istituzioni è sicuramente un lavoro egregio ma forse deve cambiare qualche cosa proprio nella mentalità di chi offre turismo qui in Puglia per destagionalizzare davvero? Beh, sono temi scottanti onestamente per il turismo sono temi scottanti a partire anche da alcune attività che vengono concesse nei mesi che si dovrebbe destagionalizzare parliamo per esempio del fenomeno della caccia se noi parliamo di turismo, delle masserie che può essere un ottimo prodotto per la destagionalizzazione non possiamo avere i cacciatori che sparano tutti i giorni della settimana dalle sei la mattina alle sei del pomeriggio quindi questo è un piccolo esempio che ho portato per far capire che comunque tutte le istituzioni devono capire e devono comprendere quelli che sono i mezzi per migliorare la loro offerta ma soprattutto per aiutare a Puglia Promozione e di coordinare l'insieme delle istituzioni Puglia Promozione sta facendo uno sforzo notevole perché stiamo dialogando in maniera molto positiva con le altre agenzie, le altre partecipate parliamo di Apulia Film Commission, di Teatro Pubblico Pugliese stiamo dialogando molto con Fiera del Levante ma anche con l'Ufficio Comunicazione della Regione Puglia cioè non è più un'agenzia che svolge attività in maniera singola in maniera così diciamo ristretta nella sua cerchia quindi è un'attività molto generalista e soprattutto diciamo che riguarda tutto il territorio e tutti gli stakeholder e gli operatori grazie a tutti